Materiali e linguaggi diversi, punti di vista, parafrasando il titolo della mostra, racchiusi nell'esposizione inaugurata a Chieti nei locali della Camera di Commercio nel cuore del centro storico. Un art designer Francesca Panetta, uno scultore Antonio Natale di Maria e un fotografo Domenico Marcone, accomunati dalla matericità, in una sintesi di armonia, morbidezza e sensibilità nelle linee di concetti. Accanto alle opere anche una raccolta di scatti del fotografo Marco Lussoso con immagini della guerra nella ex Jugoslavia. Grosso modo riprendiamo tutte e tre più o meno le stesse forme, forme morbide, forme arrotondate. L'idea di esporre qui è nata circa 6-7 mesi fa. Loro si sono predicati ad avere, affinché fosse possibile la riuscita di questa mostra e casualmente, casualmente ci siamo incontrati e casualmente abbiamo visto che forse la nostra opera, la nostra arte si accomune. L'evento è inserito all'interno del cartellone del Maggio Tiatino. La mostra resterà aperta tutti i giorni fino a domenica 5 giugno. Una straordinaria esperienza di espressioni culturali che vengono portati dalla nostra terra dal vicino Molise con artisti che hanno saputo scolpire la pietra ma che hanno anche saputo rappresentare immagini che raccontano la storia come nel caso del fotografo Lussoso ma anche che hanno saputo dipingere a tratti forti la vita.